Sensazione di vuoto proprio. Sono 50 anni e avevo mia madre in piazza e quindi sono andata e tornata. E ora appena ho visto una sensazione brutta. Pomarico, comune ad una spicciolata di chilometri da Matera, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. I grandi palazzi ti accolgono sul lungo vialone centrale che si tuffa nel centro storico, le attività commerciali aperte, la gente in strada, quasi non tradiscono l'assenza di normalità. Poi però si arriva al punto in cui il 25 gennaio, prima e il 29 gennaio dopo, mezzo quartiere dell'antico borgo è stato inghiottito dalla terra scivolata a valle. Una macchina? Chi c'è una macchina disponibile? Una macchina? Sindaco, diciamo subito che è stato immediatamente chiesto lo stato di calamità. Sì, prima di quest'ultimo smottamento che ha portato via le case. Già abbiamo fatto una richiesta sia a livello regionale che a livello nazionale, chiaramente, per un intervento perché qui ci vuole aiuto. Non siamo in grado noi di affrontare questa situazione perché è enorme. Nello stesso punto, nel 1956, si verificò un'altra frana che si portò a altre case. Da queste parti l'unica bella notizia di queste ore, e non è poco, è che non si piangono morti come avvenne per altre tragedie simili in Basilicata. Dopo la prima frana del 25 gennaio, ve l'aspettavate che potesse diventare ancora più grave, far crollare tutte queste case, praticamente metà quartiere? Sinceramente no, di queste dimensioni no. Io speravo che la paratia, perché lì c'erano due fasce di paratia, anni 80 e anni 2004, pensavo che reggessi. Invece ha collassato ieri, alle 3 e un quarto, è esplosa completamente. Grazie. 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 Il comitato si è costituito intorno al mese di giugno, perché già vedevamo delle criticità, diciamo, intorno a tutto il centro storico, perché è in abbandono da parecchio tempo, e dagli enti preposti, tipo Acquedotto Lucane, che sono fogne obsolete e rete idrica di 50 anni, 60 anni fa, in cui si sente l'urgenza di rifare un po' tutto, perché un po', non voglio dare colpa a nessuno, un po' il fenomeno naturale, un po' il fenomeno che gli uomini comunque... Diciamo che le frane non sono quasi mai una calamità naturale. Allora, noi siamo già costituiti, ma per altri motivi, per il decoro del centro storico, per verificare un po' perdite di acqua qua e là, nelle case vuote e tutto quanto. Poi il 25 gennaio è crollato. Noi abbiamo insistito con il sindaco di chiamare l'Acquedotto Lucane, un tavolo tecnico al comune, per queste cose qui. L'Acquedotto a settembre ha fatto orecchie da mercante, a ottobre, dopo due convocazioni del comune, non si è presentato mai nessuno. Dopodiché, l'altro giorno, ci siamo trovati con questo evento ingrescioso, per cui noi ci siamo attivati, perché eravamo già pronti per la petizione dei cittadini per chiedere all'Acquedotto di venire a fare una verifica generale. Ci siamo trovati con questo problema immenso. Ora continuiamo così e vediamo un po'. Noi tutti avevamo l'appoggio ai sfollati, strattati, tutto quello che possiamo fare lo facciamo, insomma, anche a livello di aiuto per chi è stato. Però complicherà il comune, un tavolo tecnico immediatamente, credo, perché ieri è stato l'assessore regionale. Non era successo ancora tutto ciò che è successo, perché è successo nel primo pomeriggio di ieri. Il comune ha chiesto anche lo stato di emergenza. Sì, sì. Per cui aspettiamo che si faccia questo tavolo tecnico con l'Acquedotto, con la regione, per vedere quali tipi di interventi, perché è ancora in atto lo stato di calamità, per cui lo aspettiamo pazientemente. Chiediamo agli enti di darci una mano, chiunque può fare qualcosa, questo è. Qui questo è un piccolo paese, quindi ci conosciamo. È una grande famiglia, diciamo, o piccola famiglia, visto che è un piccolo borgo. E quindi cerchiamo di darci una mano uno con l'altro. E niente, con questa petizione popolare che il comitato ha iniziato, ecco, subito dopo, per urgenza, diciamo, visto la situazione, cerchiamo di dare una mano, ecco, all'amministrazione, visto che ci sono state due convocazioni, sia alla regione che al Acquedotto, e sono andati deserte. E niente, noi speriamo di poter recuperare questa perla. Sappiamo che la Lucania ha 131 perle e Pomarico è una di queste. E quindi cerchiamo di mantenere il filo stretto e di non perderla. Voi, adesso, ovviamente, la vostra richiesta d'aiuto urla, praticamente, a livello regionale, a livello nazionale, però è una richiesta d'aiuto che, in realtà, non è di oggi, ma che dura già da diverso tempo. Abbiamo parlato anche con alcuni cittadini che a giugno si erano costituiti in comitato, ma lei stesso aveva anche, tramite la stampa, chiesto aiuto all'Acquedotto Lucano. Perché? Sì, perché qui la morfologia del territorio è rappesantita dalle continue perdite e rotture della rete idrica e fognare. Chiaramente, un territorio come quello delicato, andare a mettere acqua costantemente, quindi ha fatto precipitare la situazione e abbiamo visto le conseguenze. Le cose da fare immediatamente quali sono? Ovviamente c'è anche una gara di solidarietà, la comunità è molto unita ed è giusto che sia così, però lei ha scritto su Facebook che sono momenti di ansia, perché poi immagino anche per un sindaco cosa possa rappresentare oltre che per un semplice cittadino. Sì, devo dire che abbiamo avuto il coraggio già venerdì di sgomberare 25 case, tra cui, devo dire, 18 sono venute giù. Quindi, quell'atto, diciamo, un po' tempestivo, credo che abbia salvato anche qualcuno. Per fortuna, la cosa principale, non si è fatto male nessuno. Ora, l'intervento da fare è dare assistenza a questi poveri che hanno perso la casa e mettere in sicurezza il più possibile la zona. Stamattina c'è la Regione, che devo dire la verità, ha risposto subito, sta facendo eventuali sopralluobi per allargare la zona rossa, per capire dove è arrivare la zona rossa, la zona arancione e poi quella in completa sicurezza. Quindi la sicurezza è la prima cosa che dobbiamo puntare. L'ultima cosa, erano tutte case abitate e quelle che sono crollate, soprattutto attualmente quante persone sono fuori? Case abitate, ce n'erano sei della prima tornata, ora abbiamo fatto un altro sgomber, abbiamo allargato il giro, il cerchio. Ieri abbiamo fatto altre dieci sgomberi, tutte e dieci abitate, quindi ora la situazione sta diventando un po' pesante. Devo dire che sono una trentina di persone, la gara di solidità, come dicevi tu, è forte. Pomarico, devo dire, e sono fiero di questo, sta rispondendo veramente bene. Per chi ci ascolta e non è mai stato a Pomarico, non conosce magari neanche la Basilicata, me lo descrivi a questo paese? Il centro storico è spettacolare perché nasce su una collina, chi vuol vedere l'alba può vedere l'alba e dall'altro versante si vede il tramonto e già sono due spettacoli naturali che offre Pomarico. Poi abbiamo il Palazzo Marchesale che risale al 1700, abbiamo la Chiesa Madre che è bellissima. io invito tutti a venire in Basilicata, a Pomarico, anche in questa situazione così tragica. Sarebbe di grande aiuto. È il momento di restare uniti però come comunità. Sì, sì, è il momento di restare uniti come comunità. Grazie. Grazie.